Oggi facciamo le chiacchiere. E che chiacchiere! Sul tavolire mettiamo la farina, lo zucchero, due uova, buccia di limone grattugiato, un po' di limoncello, un pizzico di lievito per dolci, olio di semi, vino frizzante. Impastiamo. L'impasto l'abbiamo fatto. Ora iniziamo a tirare la sfoglia con nonna papera. Nella posizione numero uno, ci aiutiamo un po' di farina. Ora mettiamo numero quattro. Ora mettiamo numero otto. otto. Con una rondella tagliamo la sfoglia. e la mettiamo su un vasoio foderato con carta da forno. Con l'olio a quasi a 170 iniziamo a friggere le nostre chiacchiere. Guardate come si formano le bollicine, guardate. Quando hanno preso un colore dorato, li togliamo e li mettiamo in una teglia foderata con carta assorbente. E per finire una spolverata di zucchero a velo. Arrivederci alla prossima video ricetta.